A sabito il tagliamento ora per parlare della pittura che incontra il teatro. Guido Vignaduzzo ha incontrato Roberta Garlatti, la maniera artistica che dipinge la storia delle cronache del bambino Anatra. Sentite. Chi fa impara, dice la saggezza popolare, ed è un'idea del cui l'associazione Polaris, amici del libro parlato Onlus, aderisce pienamente con la sua visione del fare come condivisione e sensibilizzazione verso tematiche spesso non ben individuate o sottovalutate. Polaris, in collaborazione e col sostegno del Comune di San Vito al Tagliamento, Comitato Genitori Scuole di San Vito al Tagliamento Cooperativa Itaca, Istituto Comprensivo San Vito al Tagliamento, UTE del San Vitesse e con il patrocinio del Lions Club Medio Tagliamento, ha promosso questa iniziativa perché ritiene che sia importante portare alla luce i problemi ed affrontarli insieme con la massima apertura. Dopo due anni di ricerche sul campo, l'autrice Sonia Antinori e le attrici Maria Aris e Carla Manzon hanno creato un lavoro originale che, attraverso il racconto degli anni Sessanta e Giorni Nostri, della relazione tra una madre e un figlio dislessico. Fa luce sulla delicata condizione di cui ha dovuto affrontare questo problema prima che comunità scientifica e società civile ne avessero svelato la vera natura. Un lavoro che mette al servizio il linguaggio dell'arte per contribuire alla conoscenza di un disturbo ancora troppo poco noto e a chi non è direttamente toccato e che, nella narrazione di un percorso accidentato e doloroso, sollecita l'empatia e mira a schiudere l'orizzonte di una diversa e più matura consapevolezza. Siamo qui, sempre San Vito al Tagliamento, al Teatro Rigoni, con Roberta Garlatti, la mano artistica che sta dietro a questo spettacolo. Roberta, come nasce la tua partecipazione in questo show? La mia partecipazione nasce per un caso fortuito, conoscendo Carla, mi ha presentato altre amiche, abbiamo parlato, loro sapevano già di altri miei interventi artistici a teatro che avevo realizzato, più o meno, insomma, non come questo, ma io sperimento sempre e da lì è nata la collaborazione e abbiamo visto che le nostre voci, diciamo, artistiche, potevano andare insieme. Come nasce l'artista Roberta Garlatti? Quali sono stati i tuoi Natali? Ma, diciamo, nasce tanto tempo fa perché ho sempre disegnato, fin da quando ero piccola, anche se poi professionalmente non ho seguito questa strada, però, ecco, il mio taglio è soprattutto l'illustrazione, l'illustrazione per l'infanzia, ma sono molto legata anche al teatro e quindi a me piace sperimentare, mi piace provare e oggi ho fatto un passo in questa direzione. Roberta Garlatti, laureata in conservazione dei beni culturali, lavora come bibliotecaria responsabile nella Biblioteca Civica e Biblioteca Ragazzi di San Vito al Tagliamento. Fa parte del Comitato Esecutivo Regionale dell'AIB ed è referente regionale per il progetto Nati per Leggere. È autrice ed illustratrice di libri per bambini e ha realizzato diverse mostre personali e collettive. Per il libro parlato San Vito al Tagliamento ha pubblicato alcuni albi illustrati corredati di audiolibro.